Le figure sulla giostra con la bocca spalancata sono rappresentate come esseri umani irrigiditi fino al punto di trasformarsi in luminosi giocattoli meccanici che girano in tondo, trasmettendo contemporaneamente un senso di ingenuità e di minaccia. Poiché alcuni indossano uniformi, il quadro è stato interpretato come una satira degli orrori della guerra. È una delle opere più conosciute di Gertler e fece sensazione alla mostra del London Group del 1917. Gertler era noto anche per le nature morte e i nudi che rappresentava con uno stile pacato, ma personale, di famiglia ebrea-polacca, crebbe in una comunità strettamente yiddish. Noto per il suo carattere brillante e vivace, soffriva in realtà di forti depressioni e morì suicida nel suo studio di Londra a 48 anni.